33 ricoveri nei reparti covid dell'ospedale Sampio di Benevento. Nel Sannio calano gli infetti e l'ASLA annuncia che da domani prenderà il via la somministrazione delle quarte dosi di vaccino per i pazienti fragili. Dobbiamo essere consapevoli che la pandemia non è affatto finita e che il superamento definitivo di questa crisi sanitaria e sociale è possibile solo con un'immunità di massa, ha spiegato il direttore generale dell'ASLA di Benevento, Gennaro Volpe. E intanto dall'ospedale Fatebene Fratelli arriva un nuovo protocollo per la sindrome post-covid. Ci consente di prevenire la fibrosi polmonare. Noi abbiamo in dotazione, a Fatebene Fratelli, da alcuni anni, un'attacca di ultima generazione. A questo apparecchio abbiamo applicato un nuovo software che ci consente appunto di andare a individuare e a studiare da un punto di vista qualitativo e quantitativo il polmone, individuando quelle zone di parenchima polmonare interessato da covid che possono portare alla fibrosi polmonare. Viene acquisito tutto il volume del torace, dopodiché viene diviso nei vari segmenti polmonari e vengono colorate, come vedete qui, le aree di addensamento parenchimale che stanno a significare l'infezione da covid. Dopodiché lo stesso software ci calcola il volume di parenchima polmonare interessato da covid rispetto al volume di polmone ben areato. Qui si può capire bene che un parenchima polmonare interessato per il 46% può sviluppare una fibrosi polmonare.